Tra poco ci avviamo alle conclusioni, questo per chi magari è un po' impaziente, perché poi dobbiamo sentire anche le proposte vostre quali sono, devono essere collegiali alla fine, vadano al di là del commissariamento, ma poi vediamo che cosa fare. Allora, io coinvolgo il Presidente Righi e faccio un po' il bastian contrario adesso, non me ne voglia. Lo coinvolgo perché abbiamo sentito che pochi conoscevano a fondo questa situazione, in realtà si sapeva, ma come capita spesso, se non esce fuori, se non si accende quel riflettore di cui qualcuno parlava prima, probabilmente non se ne ha conoscenza. Io ho cercato di documentarmi, ho letto le interrogazioni che sono state presentate da vari esponenti politici, una in particolare, se non sbaglio, di Rampelli, usava dei termini che mi hanno lasciato un po' così perché parlava di gestione disinvolta e quant'altro, senza giri di parole. Quando un rappresentante politico parla di gestione disinvolta in un atto ufficiale, come un'interrogazione parlamentare, sta usando un sinonimo proprio di un reato amministrativo. Quindi mi chiedo perché poi l'ultima tessera del domino non sia caduta, cioè perché poi non sia intervenuta l'autorità giudiziaria o il Governo. Questo Governo, lo dico non perché abbia bisogno di un avvocato difensore, ma naturalmente non è responsabile del progresso, però alla fine qualcuno deve rispondere. Allora, vengo alla domanda. Sono andato a cercarmi il bilancio dell'Enasarco, la relazione del collegio sindacale esercente, eccetera, eccetera. Ce l'ho qui, insomma, comunque fidatevi per una volta, insomma, fidatevi di un giornalista, solo stavolta. Allora, testualmente, e vengo alla domanda che rivolgo al Presidente Righi, abbiamo detto che è Nasarco, è un mostro, eccetera, eccetera, però qui c'è scritto. Le conclusioni. Per quanto precede, il collegio dei sindaci non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio, né obiezioni da formulare, eccetera, eccetera. Allora, o qui c'è un'associazione a delinquere, compresa la società di revisione dei conti, eccola qui, ci sono le firme, ci sono i nomi, allora perché l'autorità giudiziaria non è intervenuta? O mi manca qualche tassello. Forse lei mi può aiutare? Ma certamente. Che meraviglia, quando ti dico certamente, ho risolto un problema. Ma è molto semplice, perché i revisori dei conti non devono controllare le modalità con cui si investe il denaro, se la gestione o no, devono solo vedere che le poste in bilancio siano allocate correttamente. Quindi, per chi è digiuno di queste cose, è un po' come la maestra, quando facevi il tema libero, che ti diceva, guarda, hai sbagliato questo, hai sbagliato quest'altro. Quindi, i revisori non vanno mai a incidere su quelle che sono le scelte o le mancate gestioni, cioè le gestioni avventuristiche del... Questo l'ha fatto la Corte dei Conti, invece, perché la Corte dei Conti ha censurato più volte quelle che sono state determinate attività. Quindi i revisori sono semplicemente i notai, coloro i quali dicono bene, il bilancio l'hai fatto bene, non hai sbagliato nel dare e nell'avere. Quindi questa obiezione non è ricevuta e non è... Però volevo dire una cosa, volevo dire una cosa, prima si è alzato un signore in sala e ha detto, ma questa non era, non doveva essere una campagna elettorale. Beh, guardate, le tre associazioni, le associazioni sono apartitiche. Noi abbiamo chiamato da destra a sinistra, da centro, da sopra e sotto. E poi a noi e a voi giudicare chi è intervenuto, cosa ha detto e cosa si è impegnato a fare. Quindi io non accetto che se parla uno di destra o uno di sinistra qualcuno si alzi in piedi perché parla il Presidente Berlusconi o perché parla Renzi. Noi siamo una categoria che ha bisogno, come tutti i cittadini, della politica. Della politica quella buona, quella seria. E a me sinceramente, se è di destra o di sinistra, come Presidente di un'associazione non mi interessa niente. Noi siamo qui per risolvere i problemi delle categorie. E se qualcuno ce li risolve io dico grazie. Che sia Berlusconi, che sia Gasparri. Allora, chi vuole portare invece all'inverso la politica all'interno delle associazioni, questo non ci va bene. Quindi io ringrazio il Presidente Berlusconi perché è intervenuto, la Senatrice Richiuti del PD, Maurizio Gasparri che ci ha aiutato. Io vi dico come categoria, noi abbiamo l'esempio di un convegno a gennaio del 2013, pre-elettorale, in cui il Senatore Gasparri ci ha promesso che si sarebbe interessato per la lotta all'abusivismo professionale, per gli agenti immobiliari. Una cosa che comporta 450 milioni di euro di evasione. Il Senatore Gasparri è riuscito, con la nostra collaborazione, ma la sua funzione di politico, a far votare tutto il Parlamento, quindi PD, 5 Stelle, così via, a convincere della volta delle nostre azioni. Quindi che Gasparri poi prenda i voti da chi ama Gasparri o il centrodestra, è un problema soggettivo, a noi come associazioni non interessa il nostro compito di portare il problema. Oggi abbiamo acceso quei famosi riflettori a cui si faceva riferimento Gbino, il Senatore Gbino, e mi dispiace per chi non c'era, e mi dispiace perché oggi ci doveva essere la Lombardi del 5 Stelle, avrà avuto l'impegno, era in campagna elettorale, benissimo, problema suo. Per me oggi conta chi c'è e chi si è preso un impegno. Spero di essere stato chiaro. Grazie, sì, io direi chiarissimo. Vogliamo organizzare una cosa anche sull'impeg, che è l'Istituto di Previdenza dei giornalisti, perché credo che tra poco dovremo accendere i riflettori sulla nostra categoria alla fine. Presidente, faccia quello che può. Andiamo tutti alle Caiman, che dobbiamo fare? Ma non è che Caiman non è un'isola, ma è un signore che prende tutti i soldi? Perché poi Caiman mi fa pensare a uno che prende, insomma, con quella bocca, con quelle cose.